Musica Ragazzi e ragazzi, ben ritornati su Wukong e proseguiamo non dalla regione o dal punto dove ci eravamo lasciati non siamo in compagnia di Lara ma ritornerà non si sa quando ma ritornerà io nel mentre continuo il gioco in solitaria perché però sono qui? perché anche se Lara in più di un'occasione e io stesso in più di un'occasione ci siamo detti appunto ma sì chi se ne frega se lasci indietro qualcosa giustamente e io in primis non andrò anche se sono sicuro che ci saranno ormai su YouTube video che spiegano passo passo come completare i vari capitoli però io di mio ogni tanto, tipo adesso, magari torno indietro per vedere se è cambiato qualcosa in determinati punti perché ho dei punti in mente che quando li avevano visti la prima volta boh, non c'era nulla ecco io però partirei da qui a fare questa specie di backtracking ecco perché non mi ricordo perché Lara me ne ha parlato ma io non mi ricordo se ho preso un oggetto qua che c'era quell'essere che poi è scappato e Lara mi ha detto che poi c'era una testa vicino a quell'essere e solo che io proprio non mi ricordo qua si può andare sì se avevo preso quell'oggetto e anche se non mi ricordo neanche di preciso dove era sparito ah no qui dove c'era la cascata ok non mi ricordo neanche se effettivamente sia da zona giusta vediamo ok se la rivedo magari mi torno in mente c'era un punto dove lui è sceso e io non potevo andare ah questa è l'arena di quel boss qua c'era l'anima errante forse era più indietro vediamo ormai questi qua ce li maniamo come niente però forse non era qui ah beh perché lasciare indietro cose di cui so mi dà un po' fastidio effettivamente no qui ho già visto perché io di mio non mi ricordo nessuna testa quindi è probabile che quella roba l'abbia tralasciata e magari era più indietro fammi vedere magari non era qui colline anteriore ah ma adesso sono qua ok questa è la roba segreta quello è il tempio fammi vedere più indietro per caso questo è proprio l'inizio forse no eh però questi sì lì si può andare lì si può andare mi ricordo un fiume forse era qua aspetta che semmo questo mi da fastidio ok era qui ah ecco questa qua è la testa eh vedi infatti io non mi ricordavo di aver raccolto qualcosa qui ma oh madonna qui cos'è scena della forno è un oggetto chiave tra l'altro no ecco sì magari non ci serve più però l'uomo si trae all'olezzo ma sorride alla bellezza il che è semplicemente naturale una volta celato all'interno della testa del Buddha questo tesoro riserverà un segreto ancora da svelare eh però non si capisce in questo caso dovrei proprio andare a vedere perché è una roba passata cosa cosa potrebbe sì era sparito qua era sparito qua quell'essere vabbè però intanto l'ho raccolto poi in questo caso un'eccezione la potrei anche fare capire dove va usato quell'oggetto ma non lo farò adesso ma facciamo così adesso un'altra zona anzi un'unica zona che mi viene in mente in realtà che è nel secondo capitolo è quello dove c'era quella porta che però non era socchiusa chiusa non so se è cambiato qualcosa però andiamo a vedere giusto una visitina dov'è che era qua c'era quello forse era proprio qua sì andiamo andiamo qua comunque mi ricordo e poi c'era quell'oggetto di cui ho parlato a Lara che vorrei vedere provare a prenderlo se riesco perché si vede non ci sono vie non mi sembra ci siano vie strade insomma che conducano a quell'oggetto quindi la soluzione deve essere lì comunque era qua dritto per dritto se non sbaglio grazie ok sì poi altre cose non mi vengono in mente sinceramente da andare eventualmente a ricontrollare il terzo capitolo vabbè è bello vasto quindi lì insomma ricontrollare tutto è un po' insomma non è che ho così tanta voglia già qui è più contenuto ah ecco c'era ok c'era questo più vicino aspetta che allora riposo così salvo da qui ok era qui dritto per dritto c'era quella porta non so magari abbiamo anche l'oggetto chiave che ce l'apre non so gli oggetti chiave non sono per niente come dire non ti aiutano per niente a capire ah ma ah è finito qui mio fratello oh ah è il fratello di quello là è un boss c'era il maiale il cinghiale si vabbè ok quindi dopo la missione di quel cinghiale dovevo venire qua praticamente dopo averlo trovato davanti al tempio dell'attiva guardiana però vedi come fa a saperlo uno non ci non so non ci non so non oh 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 eh a mia che danno che gli fa che gli fa ok ah di tu ah ho capito adesso la apre scommetto ah no ci ha passato scusa io mi ero avvicinato a meno che maschera grugno copri capo ma dai aumenta discretamente l'attacco per un breve periodo dopo aver utilizzato il fiasco diversamente astenersi da utilizzare il fiasco per una durata piuttosto lunga riduce discretamente l'attacco ah ti rende dipendente vabbè vabbè ah eh vedi 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 no eh sì probabilmente è la quest legata a quel a quel cinghiale va bene adesso possiamo magicamente possiamo passare vabbè ok alla madonna man in our time do not see the ancient moon but this moon ha shone on men of yore behold be it the realm of sunset or the realm of gold it's but an echo of the past legends speak of an ancient colossal beetle in these sands whilst deep in slumber it lay hidden beneath the earth's embrace when awakened it would devour all souls that crossed its path its shell harder than stone divide the strikes of common arms it struck fear into traveling merchants and wider to neighboring realms but a yellow furred rat sensed the immense power emanating from the insect he halted the beetle's havoc and harnessed it for his own ends overjoyed the king named the rat guai the royal sage and built a shrine in his honor the bound beetle was a perfect source of power so the rat stayed he seized the tongue monk using the new power and battled with soon wukong upon the yellow wind ridge the guai's formidable wings failed the vast expanse of the sky were it not for bodhisattva lingji tongue monk's quest for the scriptures would have failed yet stripped of the rat's protection the kingdom was plunged into a state of ruin the once lush yellow wind ridge now lies a desolate wasteland non mi aspetta hota sta roba madonna sta cosa però mi mi fa un po prudere diciamo nel senso è una roba importante sembra me la nascondi così ma c'è tutta quella zona desertica grossa da vedere ma davvero questo non è finito ok segreto regno di sali passo del varco di sabbia scusa eh ma quindi ah vuoi vedere che in ogni mondo c'è un mondo segreto quindi anche nel nuovo occidente ci sarà qualche cosa di segreto eh però vallo a capire sta cosa secondo me potevano farla hanno voluto imitare tutti i vari titoli from di fare le missioni un po' criptiche ma secondo me hanno esagerato hanno fatto troppo criptiche uno magari ha anche gli oggetti chiave ma boh chi è? un'altra tigre a me non mi interessa ti dico che guardi tra virgolette cioè madonna ti dico che guardi una tra virgolette è finta non so qua e poi chiamiamo ok chiamiamo io ragazzi e io mi trasformo andiamoci giù pesanti mamma mia l'abbiamo devastato ah la schiena si va bene ah è di me sigillo della tigre oggetti unici equipaggia ah questo dopo aver messo a segno dei colpi con la combinazione attacco leggero aumenta significativamente l'attacco potrei pensarci però non questo ma questo al posto del vigore massimo vediamo sì comunque possiamo possiamo rinunciare vorrei che l'attacco cos'altro qualcos'altro di due bambini piccoli ma sarei mica il padre dell'attacco guardiana e quindi e quindi ce n'è un altro da qualche parte ma noi non abbiamo no forse abbiamo sconfitto il saggio del vento già non mi ricordo come si chiamava ok c'è un altro regno di sali riposo non mi aspetta hotta sta roba ma davvero ah e adesso che ci vi sono venute in mente anche un'altra zona nella terza mappa sì che abbiamo visto insieme a Lara che lì palesemente c'è qualcosa però ci mancava l'oggetto probabilmente e devo andare a rivedere devo andare a rivedere ma qui oddio mi sembra una grande arena in realtà ah ma aspetta aspetta lì in alto c'è qualcuno no no posso ecco prima che parte lo scontro maledizione ma ste scivolate eh ok dove dov'è ecco non l'avevo visto aspetta ma scusa ma lui è sì è il loro re ma non l'avevo sconfitto sto qua quindi dobbiamo andare da lui per chiamare eh ova? ma è... un setto ne... Dici qualcos'altro. Qualcos'altro? No? Vabbè, me ne devo occupare io, tu stai qua a guardare. Va bene, si. Ok. Ok, qui non ci sarebbe stato nessuno se fossi andato prima, va bene. Vabbè, però rendere segreto è una zona del genere. Ci stava nella prima area che era, vedete, uno scolo, ma qua c'è roba... Mi sembra che ci sia roba importante, poi non so. Fuban. Vabbè, e... Vediamo. Ah, mi ha preso. Dov'è che... Madonna. Vabbè, eh, top. Quindi devo mirarlo alle zampe. Zampe, praticamente. Comunque non gli facciamo tantissimo danno, eh. Quello sta fermo, perché? Mamma mia. Eh, ma secondo me... Ce l'avrà il punto debole, dai. Magari si stordisce a un certo punto. Eeeeee... Cioè, batterlo... Al momento... Diciamo, al momento giusto... Sarebbe stata una sfida durissima, secondo me. Se lo incontreremo prima di battere... Il secondo boss principale della storia... Uuuuh, madonna. Hai finito? Diciamo una cosa, adesso. Uh. Ok, ah. Ma non puoi fare altro, tu. Piuttosto che suonare. Ah, possedi da fastidio il suono? Però... Prendici meglio? Ma dove? Oh. Dove? Ehm. Ma... Ma parte che non gli posso fare niente, ma... 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 E' da qualche parte intorno? Ah, ma no, su! Ho capito. Ah, c'ha la testa... Del... Del Buddha. Ehm... Uff... Ehm... Uff... Ah dai E ce l'ha comunque con me Mamma mia Secondo me la pancia La pancia è debole Eh aspe Ma comunque il macaco ha tanta roba Ah no Aspetta Miralo Vai Sconfitto Sconfitto Grazie a tutti Scusa, non ha senso, almeno mi pareva a lui quello che abbiamo affrontato in mezzo al vento, lì la sabbia, eccetera In teoria sta boss fight abbiamo dovuto farla prima di quello scontro, quindi ci ha dato una mano qui, ma a meno che abbiamo rivissuto un qualcosa del passato Domatore del vento, cimeli Così come vuole il decreto del buddha sono qui per sottomettere il guai vento giallo Corno per foraceli Ah, ok, infatti io ve l'avevo detto quando c'era anche Lara che quando lei mi ha passato quel video, quel giocatore aveva un qualcosa di diverso qui Che io non avevo trovato E quindi si prendeva qua All'attivazione aumenta notevolmente la riduzione dei danni per un breve periodo e conferisce immunità dai forti venti Ah, quindi ti avrebbe dato una mano contro quel boss lì Particolamente efficace contro specifici nemici, eh sì, ok Equipaggiato aumenta leggermente, beh sì, conviene tenerlo rispetto all'altro E l'altro, a parte con lo scontro del primo boss importante di trama Che dava fuoco per il resto, sì, lo usavo più che altro per la concentrazione, ma poi a parte quello Allora, una roba mitologica a quanto pare Uno di sei Scava la terra, perfora il cielo Questo peculiare corno di scarabeo conferisce ai suoi simili la capacità di prosperare ovunque Può essere usato per creare armi Ho capito, uno di sei vuol dire che ce n'è uno per regione, secondo me Anche se in realtà questa è già la seconda Dubito che ci sia nella prima, però O a meno che a un certo punto ne prendi due in un colpo solo Perché se può essere usato per creare armi Magari crei Il bastone O il bastone più forte del gioco Uno di sei Sei reliquie Sei mondi Secondo me sono sei Le regioni Va bene Va bene Tanta roba Che ci siamo lasciati indietro E ti riguarda un'altra virgolette Ok Vabbè Sto ancora traducendo Ok Tanto questo è come vi ho già detto Sicuramente non se legge nessuno O i veri appassionati O i veri appassionati Soprattutto di mitologia cinese O E basta Gli altri Va bene Ma dove Siamo fuori Quindi qua Ah ok Non possiamo più tornare Ah Ah no Pensavo Oddio Pensavo che c'era qualcuno No Ehm Ok 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 Ehm Vabbè torno Allora qui c'è l'ultima cosa che volevo vedere Capire come prenderlo Allora Ehm Eccolo No Dov'è qui? No Non è qui È qui Forgia Crea armatura Ah C'è un'armatura Ah Fuba Sì Ok Una volta assunte le medicine Conferisce una significativa concentrazione Quantità Sì Di concentrazione Aumenta significativamente la durata di tutti gli effetti delle medicine Quindi potenzia l'uso Delle medicine Che noi non usiamo Quindi vabbè Ok Vabbè Però armi Qui niente Non ci dà neanche Un'anteprima Magari è roba super segreta Non lo so No Questa è legata al quarto mondo No 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 Vabbè Eeeh Allora Aspetta Avevamo dei punti Due punti Cos'è che stavo potenziando? Io non mi ricordo più Avevamo potenziato al massimo Il passo illusorio Al massimo Le ciocche Eeeh Forse non stavo poten... Beh Abbiamo sbloccato forse queste cose qui Ognuno del talento aumenta leggermente l'attacco quando in forma mutata La salute massima E la potenza conservata Ah una volta annulata la trasformazione Comunque Tra le trasformazioni Finora che abbiamo a disposizione Sicuramente al primo posto c'è il macaco È molto forte Tra l'altro Quando ci si trasforma Attacca Praticamente Poi viene questo qui Marea rossa E gli altri due Mh Insomma Meglio questo sicuramente Ma questo qua Galaverna Pensavo meglio Invece fa un po' Un po' schifino Vabbè Comunque Eeeh Non so se potenziarla a questo punto Dopo aver sconfitto un nemico aumenta leggermente l'attacco per un lungo periodo Questo effetto può accumularsi fino a 20 volte Mh Però non è utile contro i boss Eh È utile contro i nemici normali Quindi è un potenziamento un po' Mh Forse allora a sto punto Perché con le magie ci siamo Per ora queste Mi vanno più che bene Eeeh Potrei Sì Come avevo detto Spostarmi sul ramo Sopravvivenza Che secondo me È quello che faremo Perché non credo di prendere altro Meglio potenziare tutte le varie statistiche Magari incominciando E' forse proprio da d'attacco Cioè andare a massimizzare questo Sarà immagino tanta roba Ma io volevo anche comunque dare un boost Un qualcosa Effettivamente alle trasformazioni A pensarci bene Perché È anche giusto che Questo ramo In qualche modo sia potenziato Magari tra Ovviamente non si può prendere Tutto Ma Scegliere un qualcosa Visto che il macaco Ha un potenziamento Sì Che è forte Ma è utile Quando Lo devi usare Contro vari nemici Io spesso le trasformazioni Le uso più che altro Contro i boss O contro quel nemico forte Quindi In questo caso Per lui Non vale molto la pena Magari vale di più Concentrarsi su qualcosa qua Leggermente la potenza massima Ogni livello del talento aumenta Leggermente l'attacco Quando in forma mutata Ogni livello del talento aumenta Leggermente la salute massima Ogni livello del talento aumenta Leggermente la potenza conservata Una volta annullata la trasformazione Oppure Ogni livello del talento riduce leggermente Il declino della potenza Quando in forma mutata Questo potrebbe essere utile Più C'è potenza E più rimango Trasformato E quindi più posso far male Perché potenziare questo E potenziare questo E l'attacco Diventerà una roba devastante Secondo me C'è questi due Allora io per iniziare Direi intramontabile Dai Potenziamo questo Tutto questo Pallino Diciamo Ok Per l'altro costa anche uno Quindi non dovrei metterci molto Secondo me Così dura di più Ah sì E poi da qui Mi devo spostare Dov'è che era il posto? Ehm no Vediamo se me lo ricordo Qua era mi pare No Non sotterraneo Era quello prima Qua ero già troppo avanti Beh Forse era proprio L'ingresso del tempio Della tigre Sì Aspetta Ehm L'ingresso del tempio Qui c'è No Quello se n'era andato Se Se era qua giù Qui per caso No Controlliamo Ma Questo? Ah no Niente Andare giù di qua Non vedo niente Non vedo una mazza Ok Assertiamoli tutti Ah sono In questo caso Devo dire comunque Posso fare Tranquillamente i complimenti Perché i segreti Sono davvero Dei segreti Ma davvero Molto spesso Troviamo Dei segreti In altri giochi Ma poi Alla fine Basta esplorare un po' di più E non è poi tanto segreto Ma qui Davvero Sono segreti È lì Porca di quella vacca Ci sarà un modo Saltando Viene in mente Perché di vie Io non ne vedo Il tetto è chiuso Qua Non si può andare Però Però non ci arrivo Non ci arrivo Attaccando Magari Non so Però vedi che Bastardata Che non Non ti fanno Poi devi ritornare Su così E qua Tutte le volte Devi fare così Se fallisci Magari saltando Prima Non lo so Scusa Saltando con l'attacco pesante Cosa facciamo? Io ho sempre fatto L'attacco leggero Così Ah ma fai un doppio salto? Ah Ma allora Penso di sì Eh Infatti sì Forse l'avevo anche detto Che lì serviva Magari un doppio salto Ok Io ho sempre fatto così Eh sì Fammi provare Qua Eh sì È un doppio salto Con la mazzata Ah Vedi C'è proprio Dark Souls Cioè Dark Souls Elden Ring Ho visto di quelle robe Su YouTube Sfruttando I moveset Delle armi Che punti Si possono raggiungere E qua è uguale Praticamente Hai visto? Eh Ok C'era il trucco Ok Reliquia della tigre Bevande mescolabili Usare il fiasco Aumenta discretamente La probabilità Di colpo critico Per un bel periodo Non mi interessa Però Però Tant'è l'avevo visto Ok Quindi qua Il fatto è che Non mi viene in mente Niente Di andare a vedere Tra l'altro I vari oggetti chiave Non lo so Beh questo è legato Al primo mondo Quindi dovrei rifare Un giro Nel Nel primo livello Ma in questo caso Potrei andare a vedere Una guida Visto che ce l'ho Capire dove va usato Questo abbiamo visto Per ora L'abbiamo usato Praticamente Nel primo E nel secondo Mondo Ok Questo io non mi ricordo Dove l'ho trovato Sinceramente Però è Il stesso nome Sensazione Della forma Della percezione Ho tre Tra l'altro Uno Non comune Uno raro E uno epico Questo l'abbiamo trovato Credo nel quarto Credo nel quarto Non mi ricordo Questo Forse nel secondo Non mi ricordo Forse si Era insieme a Questa era la chiave Anche l'iride Si In pare Che l'abbiamo trovato Qui Però Sebbene questo Tamburello Sia l'allogoro E il malconcio Quando percosso Emette ancora Un vivace Scalpitio Quindi va suonato Va suonato In un determinato Punto Della mappa A quale Bella domanda L'amore per i genitori È naturale Fin dalla nascita Per i bambini Qui tra le varie descrizioni C'è C'è tra le due Sicuramente l'indizio C'è tipo Quando percosso Capisci che va suonato Però Io avrei messo Comunque Dove Dove va suonato Vediamo se mi viene in mente Qualcosa Va Beh Qui sono passato Non C'è Dovrei rifarmi Tutto il livello Per fare le cose E Qui Ingresso Valle della disperazione Qui ci sono passato Forse qui Non lo so E ti facciamo Facciamo un giretto Salto tutti i nemici No perché Quando hai l'oggetto chiave E non E lo vuoi usare Non sai dove usarlo Mi dà un po' fastidio Proprio a caso Andiamo a caso Non so Non so Sarà un Qualche indizio Però Quando Quando si arriverà Nel punto giusto Qui in effetti Non sono Non sono Non sono più passato Qui è un po' pieno Di nemici Eh però Magari forse Deve essere Priva di nemici La zona Può essere Madonna Per farti usare Aiuto Secondo me Sì Forse c'è un Punto Dove non c'è Nessuno Questa è una pianta Scusa Ah visto Aspetta però Fammi sentire Che che ha parlato Poi Però qui dei nemici Ci sono Però sono un po' iner Vediamo Che che Mio papà non è così Che parla Adesso sono attivati tutti Devi dirmi altro Eh Un po' troppa gente Eh Mamma mia Aspetta Deve andare via Eh ma Forse Va su un altro Da un'altra parte Eh ma dove Eh vabbè Dovevo proprio Toccare Io C'è Ma sì Eh Metti un po' Di veleno Adesso Mi devo anche A velenare Vabbè Vediamo se riesco Qua c'era un Un santuario Mi pare Forse più avanti Andando avanti Di qua Proseguendo di qua Magari è Uno Due Tre Quattro E ne so Vediamo 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 Proviamo Andare di qua Salto un po' Qui sembra che Ah questo Non l'ho aperto Ma non l'ho visto Può essere Può essere Che non l'ho visto Se però Lì era la partenza In effetti Eh Vabbè Vediamo Siamo in ballo A sto punto Balliamo Qua c'era L'adapto Della tigre Non c'è No Vediamo Vediamo Proseguo per un po' Cogli Ma di qui Si può andare Ah si Vabbè Ok Che Tipistrello Lasciami stare No però Qui ci sono dei nemici Quindi non credo Qui non ci si fa male Senti Lasciami stare E Cavolo No Qui niente Qui c'è l'altro Aiuto Dove si sbucava Non mi ricordo più Ah si Ok Tornavi indietro Si Si No Allora se qua Niente Aspetta Fammi vedere bene Però Ah magari Aspetta Aspetta Qua si rompe No 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 E dai Lasciami stare Ti prego Ok No qui Proprio niente Non è che No No ma è troppo alto No Poi c'è sta animazione Forse sarà un altro punto Lì del villaggio Dove poter suonare Vabbè Fatemi tornare indietro E Salve Ok Ok Ma qui non si vede una Ma qui c'è una fiammella verde Lì però Non si vede niente Devo vedere Bene il villaggio Mamma mia E Riposa Ma non so Mettere Fammi vedere Anche da qui Mettere Un indizio Magari anche sonoro Un qualcosa Fammi ripartire da qui C'è per farti capire Però se quel punto era là Magari qui Non so Proviamo a dare un'occhiata Ma Andiamo di qua Ma Lì c'è un nemico No ma Infatti Cioè I nemici c'erano Ma erano fermi In modo Da darti la possibilità Di fare Quello che dovevi fare Dopo che l'hai fatto Allora Si sono attivati Praticamente Se non Stavo leggendo Se non l'ho visto male Ma qui Secondo me Secondo Secondo me No Qualcosa mi dice Che Andrà a zone Era qui Era qui All'indizio Forse è che diventa Bianco e nero L'immagine Però No è qui Niente Questa è una pianta No Quindi Dobbiamo cambiare zona Olè Sparito Vediamo Se mi viene in mente Magari un'altra zona Con delle casette Un'altra zona Con delle casette Eh Villaggio Magari qui Proviamo qui Ingresso del villaggio Comunque Mi sta facendo Sforzare Sta cosa Mentalmente Magari da queste Parti Vediamo Lasciami stare Lasciami stare No Andiamo a caso Andiamo a caso No Qui mi pare Che finiva Esatto Oh Ma fatti i fatti Tuoi Qua Chi è Chi è Ma Di sopra Ce l'ho andato Ma forse si Ah Tacco pesante No L'ho mancato Basta Faccio questo Ok Almeno mi lasciano stare Facciamo Fammi bere Qui ci sono dei nemici Mamma mia Via via Dai Su Su Sto facendo Robbe Qui niente Ah dicevo C'è qualcosa È una pianta Ok Senti Non è che Magari C'è anche Questo Dubbio Mi devo Proprio Sconfiggere Tipo Liberare La zona Magari No Se fosse Così Inizio Ribattere Tutto E tutti Vabbè Che ormai Sono delle Merdine Però Eravamo anche Prima In realtà No Però Non giù Eh Manca Quello Però C'è qualcosa Ah Vedi qua Mi sono dimenticato Una fiammella Questo No Non si distrugge Qui Ok Qui c'era L'arena Credo Sì 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 Giù Sta Fermo Ok Ho visto Tutto Sì Credo Di sì Sì Ah Sì Lì Mi ricordo Qua non è cambiato Niente No Era un bambino Che parlava In effetti Però Qua ero andato Non mi ricordo Qui dove c'era il lupo di terra Sì Dov'è Cioè Praticamente Sto ripulendo Tutto Eh No Qui dove ho sconfitto Quei due Oh Allora Non so Se non è qua Se non è qua Se non è qua Ah no Non è a posto Allì c'è il santuario Qui è dove è partito Tutto Eh Probabilmente Andrà a vedere Lì Anche lì Forse c'è Di in alto Magari Sto letteralmente Andando a caso Ma No No mi son bloccato Ma guarda Eh Oh Ma guarda te A delle volte Non ho capito È un problema Del mio controller Mi sembra Non mi prenda il comando Ognunque E dai E dai Sembra di no No Allora E poi Cavolo Ho trovato il primo Per culo Ma Gli altri punti Quanti altri Poi Ma non No Qui Ok Qui è dove ero partito Niente E allora Fammi tornare Mi sa che devo per forza A vedere una guida Perché se no Girerei a caso Nuovamente Posso dare un'occhiata Alla mappa Ma Adesso è il tipo Sotterraneo Piano delle pietre Qua è dove ho trovato Il primo Coso Ma qui ho visto No Aspetta Proviamo a vedere Un'ultima cosa Ma Oltre qua Dov'è che si andava Non so Magari qui intorno Qui non c'è nessuno Piantina 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 Sembrava il suono Di una scimmia Qui ovviamente Avevo già Oh Mancava la difficoltà Ad attaccare Ah no Ma qui Ok Ci si ricollegava Qua No Allora ok 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 Ma proprio Ah Ok E allora niente Dai Allora facciamo così Vado a vedere Per forza No Eh si Adesso che ho iniziato Vorrei capire Dunque Dunque Sono andato a vedere E effettivamente Un po' Ci avevo azzeccato Tra l'altro Questo oggetto Alla fine Ci fa incontrare Boss Praticamente L'altro figlio Credo Della Tigre guardiana Tra virgolette Però Un punto L'abbiamo incontrato Però Cioè ci sono passato Però ci sono passato Nel momento sbagliato Praticamente Perché i punti sono tre Uno Il primo L'abbiamo scoperto Che era qua avanti L'altro Ho visto Eh Bisogna andare Eh Aspetta Era 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 Un attimo Dovrebbe essere Qui Dovrebbe essere Aspetta L'ho visto Ma Eh Vediamo se riconosco Forse qui Era Vediamo Aspetta Ok L'ho visto E mi sono già dimenticato Come al solito Doveva avere Sul secondo schermo Costantemente Il video Ma vabbè Sì Dovrebbe essere qua Diceva Oltre la porta Che dovrebbe essere Questa Ci dovrebbe essere Un punto Vediamo Eh Dovrebbe essere lì Però aspetta Prima Eh Devo battere Questo Se no Aspetta Ma Mi sa che Devo Vedere Un attimo Il controller Perché Senti Ok Vai giù Vai giù Vai giù Peccato Non ho La spinta Lo buttavo giù Ok Dov'è Dov'è L'altro Ecco Dovrebbe essere qua Da queste parti qui Ecco qua Perfetto Sono qui Non ho capito La logica Però Eh Posso suonarlo Perché non me lo fa suonare Ah Più avanti Dovevo andare Qua E vedi Qui c'eravamo Già stati Tra l'altro Il nostro villaggio È bello Ci c'è Eh È in fondo Al po Ecco Lì Dove c'è Il boss Eh Ok Ok Basta eh Che qui ce l'ho già passato Però vedi Dai Dovevano farli Più chiari Gli indizi Perché veramente Uno Ok Torniamo Adesso Il terzo E ultimo Punto Ci siamo Ci siamo già passati Prima Ma siamo passati In un momento Sbagliato Perché i punti Da svelare Praticamente Sono in ordine Il primo L'abbiamo visto Il secondo È questo E il terzo E il terzo È qua Vediamo Viaggia Ingresso del villaggio Vabbè Potevo farlo Anche da qui Effettivamente Non fa niente Ok Ok Eccolo qua Ah ho visto Una guida Non si Immagino Però non mi ricordo Più Chi Chi è che Ce l'aveva dato Il tamburello Sinceramente Non me lo ricordo Questo non me lo ricordo Salta dentro Senti Senti il ruggito Della tigre Sì Rotten mutt And he dares bear our father's title Under that yellow wing Brother or not I will have my vengeance Ti go furiosi The kids' dad ran off And now you've shown up to me Sì! ma no sono quasi morto vediamo, non forzi in arrivo vediamo oh ok ok uno spirito e allora oh bevo tutto fa' che magari poi mi mi riposo da qualche parte però fa niente tigre furioso c'è vediamo assumi la forma della tigre furiosa ed emetti un rugito terrificante che sconvolge i nemici vicini e infligge danni in un'area frontale effetto equipaggiato aumenta discretamente l'attacco ma riduce notevolmente la salute di 7 lo aumenta non è che aumenta ok ok è un po' come questi due però mi riduce la vita di un bel po' anche insomma io starei con questi ok qui non c'è niente ah vedete c'è qualcosa un'animazione diversa dal sole vedete è una roba importante fiasco di amministrazione mortale fiaschi ah il recupero della salute viene dimezzato ma l'attacco viene aumentato per un breve periodo dopo aver usato il fiasco eh però si ci potenzia d'attacco no otteniamo quello che abbiamo va bene si purtroppo non ho ben cioè ci sono arrivato che andava suonato da qualche parte e infatti il primo punto l'abbiamo trovato ma poi per il resto ho comunque dovuto seguire una guida troppo criptici secondo me belli come segreti ma troppo criptici già fa vedere no quindi a me qua sinceramente non mi viene in mente nient'altro mi viene in mente solo una cosa nel terzo mondo abbiamo sbloccato anche era questo no 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 non era qui no dov'è eh il campo delle angurie si o o dei cocomeri forse o forse tramite aggiornamento non ho cambiato nome non so che non quella lì è palesemente un'arena però non c'era nessuno quando abbiamo siamo andati la prima volta c'era anche Lara vediamo se abbiamo ehm l'oggetto magari ci vuole ci vuole un oggetto perchè si attivi un qualcosa poi non lo so vedi campo di angurie però la prima volta che l'abbiamo visto mi pare che c'era scritto campo di cocomeri fa vedere eh sì secondo me hanno cambiato però vabbè uguale in effetti cocomeri qui eh ma vedi non succede niente ma qui sicuramente succede qualcosa bisogna solo avere l'oggetto giusto lo fa vedere questo ci è rimasto come gli altri mmm non saprei sicuramente se cerco su google il campo di angurie qui ovviamente scrivendo wukong ehm 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 qualcosa mi dirà oh o devo fare un qualcosa o non lo so no ma non ci sono i gesti qui quindi oh non saprei non saprei davvero facciamo così tanto devo già andare perché questo lo voglio sapere vado a cercare questo qui per capire dove va usato anche se in realtà ne ho altri due simili o non lo so e poi cerco sto campo di angurie vediamo qui vediamo qui vediamo qui